Oggi abbiamo presentato in Consiglio regionale un'interpellanza per verificare cosa ha fatto la Giunta regionale, in maniera particolare l'assessore imprudente, per aiutare gli allevatori del latte nella nostra regione. Sono oltre 400 le imprese coinvolte, ma dopo un anno di pandemia la Giunta regionale non ha fatto assolutamente nulla. Oggi l'assessore è venuto in aula raccontando che farà una serie di tavoli, di incontri, di proposte che verranno, ma non ha assolutamente le idee chiare. Tante altre regioni hanno già deliberato impegni, risorse, avvisi per cercare di aiutare gli allevatori del latte che vendono il proprio prodotto a 37 centesimi al litro. 3 litri di latte per un caffè. E la Giunta regionale non si fa assolutamente carico di queste difficoltà. E la Giunta regionale non si fa assolutamente carico di un caffè. E la Giunta regionale non si fa assolutamente carico di un caffè. E la Giunta regionale non si fa assolutamente carico di un caffè. E la Giunta regionale non si fa assolutamente carico di un caffè.